Siamo ancora una volta a parlarvi di degrado e scarso senso civico. Le segnalazioni di alcuni nostri telespettatori ci portano nel quartiere del Vallato, dove non facciamo in tempo a mettere piedi giù dalla macchina che già calpestiamo, immondizie e lattine vuote. La zona interessata paradossalmente non è decentrata o nascosta, anzi tutt'altro. È il fulcro del centro commerciale, uno spazio aperto dove giocano bambini ed abitanti del luogo, proprio a ridosso della chiesa. Qui le condizioni sono pessime perché è sempre pieno di sporcizia. Gli educatori di San Paolo più di una volta hanno dato il loro tempo per ripulirlo, ma questa cosa non ha sensibilizzato i responsabili perché la situazione è sempre la stessa. Quello che chiediamo è se è possibile di rispettare un po' di più l'ambiente che è un po' di tutti e di usare i bidoni perché ci sono, anche vedere dei bambini che giocano e trovano queste cose per terra e le toccano non è proprio il massimo dell'igiene. Lo schiaffo alla civiltà diventa ancora più sonoro dal fatto che i cestini per la raccolta dei rifiuti ci sono e sono ben visibili, ma sembra che gli unici a non vederli siano proprio gli spargimondizi a seriali. Ma il vero pericolo per l'incolumità di bambini e bambine deriva dai cocci di bottiglia sparsi ovunque. La piazzetta del Vallato raggruppa tutte le generazioni e ci sono dei bambini anche di 4-5 anni che giocano qui con i genitori e vedere questi vetri per terra, le cicche delle sigarette, le lattine non è né igienico ed è abbastanza pericoloso, quindi chiediamo un po' di responsabilizzarci e di rispettare l'ambiente che è di tutti.